L'assessore regionale Marco Scaiola incontra i cittadini di Ventimiglia al Gazebo di Forza Italia. Tappa Ventimiglia, il Gazebo di Forza Italia cominciati ad Imperia, oggi anche poi su Ventimiglia. Un momento importante per spiegare ai nostri elettori e con cittadini di quanto sia importante andare a votare il 27 e il 28 di ottobre, quanto sia importante che Marco Bucci diventi presidente della regione Liguria, quanto sia importante evitare che una sinistra chiacchierona possa prendere la guida della regione Liguria e portarla indietro di 50 anni. Noi vogliamo continuare un lavoro che abbiamo cominciato in questi ultimi anni, un lavoro che ha portato fondi. Qui a Ventimiglia fondi importanti, immagino solo per gli alloggi popolari e per le famiglie in difficoltà, oltre 8 milioni di euro nella sola città di Ventimiglia. Per non parlare dei finanziamenti per la riqualificazione delle spiagge, per non parlare del lavoro importante che abbiamo fatto per i lavoratori frontalieri attraverso il bonus che abbiamo ottenuto grazie a un lavoro costante portato avanti col FAI, con i frontalieri autonomi in Temeli, un lavoro concreto di aiuto e di sostegno a chi ogni mattina prende l'auto per recarsi nella vicina Francia o a Monte Carlo a lavorare. Quindi anni di grande lavoro, di impegno ma soprattutto di atti concreti che rivendichiamo con orgoglio e che vogliamo continuare a fare perché amiamo questa terra, amiamo questo territorio e crediamo di essere in grado di fare ancora tante cose importanti.